Abbiamo degli nigeriani qui che fanno lavori che non sono dignitosi, ragazze sulle strade, ma abbiamo anche migliaia e migliaia di nigeriani che lavorano qua in Italia, fanno il loro business, pagano le loro tasse e allora contribuiscono al benessere dell'Italia, mentre allo stesso tempo migliorano la propria vita e il loro proprio futuro. Questo è così che dovrebbe fare. Abbiamo avuto l'incidente doloroso che abbiamo sentito la macerata, è bene che lo portiamo al risalto per il popolo di vedere che questo modo di fare non è buono né per l'Italia né per le vittime, ma voglio sempre ricordare che è un incidente abbastanza unico, non generale, non generalizzato e allora speriamo che rimane così isolato e non si doveva ripetersi. Dobbiamo avere un paese libero dove tutti possono circolare senza paura, senza differenza di colore della pelle. Fra poco avremo più, avremo degli italiani negri, non siete abituati, dovete cominciare ad abituarsi. L'Inghilterra è già abituato ai britannici negri che sono anche alla cima della società. Non è niente inaspettato. Grande America, Stati Uniti, si vede lì un paese che è diventato grande perché hanno saputo a colere gente di ogni parte del mondo.